È stata una stagione entusiasmante, culminata nel successo di Lewis Hamilton che a 23 anni e 9 mesi è il più giovane ridato nella storia del campionato mondiale di Formula 1, successo sofferto, maturato proprio negli ultimi metri, abbiamo visto del Gran Premio del Brasile a Interlagos, ma questo intanto è Kimi Raikkonen, campione uscente, abbiamo cominciato piuttosto bene la stagione, poi a metà abbiamo fatto alcuni errori da parte mia e anche da parte del team, abbiamo perso un po' il rischio di un'altra stagione. Il ritmo, sfortunatamente, ci abbiamo messo un po' per rimetterci di nuovo a riprendere il ritmo, a quel punto era troppo tardi, voglio dire, abbiamo imparato sicuramente dagli errori, di sicuro non faremo più gli stessi in futuro. È il momento del secondo, con onore aggiungo classificato Felipe Massa che vince proprio negli ultimi metri il suo titolo, lui ha vinto sei gare contro le cinque di Lewis Hamilton, abbiamo rivisto il fattaccio di Spa. Ripercorrendo i momenti più importanti di questa serata, da Marco Ardigo, il titolo mondiale nel campionato karting.